Il Lirvana, storica discoteca retina, spegne quest'anno 20 candelini, innanzitutto come festeggerete un anniversario così importante? Festeggeremo con una serie di eventi che sono partiti a marzo e andranno avanti fino a fine luglio con ospiti particolari, importanti o meno, domani sera abbiamo i Cugini di Campagna sarà una serata anni 70-80 e un po' trash, un po' di casino insomma I appuntamenti saranno sicuramente tanti per tutti i gusti Sì, per tutti i gusti perché abbiamo fatto di tutto veramente in 20 anni Ecco, qual è il segreto per arrivare a 20 anni e qual è stata la storia di questo storico locale per 20 lunghi anni che verrà ripercorso un po' in questi mezzi di festeggiamenti? Sì, sì, come è cominciata non lo so, so come siamo oggi è stata gestita in modo molto naturale, tranquillo, senza tante pretese tra l'altro con tanto amore per il lavoro, per questo lavoro che è bellissimo siamo sai nella musica, è divertente Ecco, proprio questa la passione per la musica e la passione anche per saper dare del divertimento agli altri Sì, non sempre si accontenta tutti ma comunque credo che ci siamo riusciti se siamo ancora lì dopo 20 anni Ecco, ricordiamo il prossimo appuntamento che è con i Cugini di Campagna Sì, domani sera i Cugini di Campagna poi sicuramente verrà Tonino Carotone che lui viene tutti gli anni per cui parteciperà e poi sorprese Grazie Grazie Grazie